Buonasera a tutti, ben trovati. Iniziamo prima dai colleghi italiani, un po' di ospiti e poi passiamo ai colleghi turchi. Iniziamo con Roma tipo prassi. Ho già parlato con noi? Non ha mai perso il pre-campionato. È una squadra che ha passato il preliminare, ha vinto il campionato. Quali insidie nasconde questa gara per la Roma? Per essere un po' diretto e pragmatico non sembra un play-off della Conference League. Quando la Conference League ha iniziato come progetto la gente pensava e diceva anche che sarebbe una competizione senza squadre top. Però quando tu guarda questo play-off, come minimo sembra una partita d'Europa League, per non dire una partita di Champions, perché qualche anno fa tanto la Roma come la Trabzonsport erano squadre che giocavano la Champions. Penso, questo per me dice tutto. È una partita dove sarà un peccato che giovedì prossimo una delle due squadre è fuori, perché sono due squadre di qualità che potevano prendere e traere a questa competizione una plusvalenza, perché sono due squadre di qualità. Questo è ovvio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il primo gioco non può essere un gioco ma questo è quello che posso dire ogni gioco è un gioco il gioco grazie a tutti grazie a tutti buona sera io vorrei chiedere lei in passato ha venato sempre grandissimi attaccanti quest'anno si trova a venare tre grandi prospetti come ha definito anche lei ieri insomma con il suo lavoro possono diventare in futuro quelli che magari sono stati Keynes per Tottenham piuttosto che Lucapura per il Celsio Benzema per il Real pensando ai grandi attaccanti a lei paragonare è sempre una cosa complicata principalmente quando tu quando noi vogliamo fare paragonare con gente chi ce l'ha fatta alla grande è una tendenza naturale nostra di paragonare con i più bravi però è un po' pericoloso è una pressione extra che questi giovani giocatori non hanno bisogno però tu hai ragione tu guardi i nostri tre attaccanti tutti diversi come profilo di di attaccanti tutti diversi per tutti i giocatori giocatori bravi anche giocatori che non si può dire gioca uno o gioca un altro possono perfettamente giocare due allo stesso allo stesso tempo e sono super contento non non voglio nascondere che quando abbiamo preso Sean Rodolph io ero abbastanza felice e tranquillo con questa stabilità non voglio nascondere che quando si è iniziato a parlare della uscita di Dzeko che ho sentito un po' un feeling non dico di paura però di preoccupazione però dopo il direttore Thiago e proprietà hanno risolto la situazione di un modo fantastico Tami ovviamente che non ha la storia di Edin perché Edin è un giocatore di 35 anni se non sbaglio con una storia ricca Tami ha vinto tutto si può dire che ha vinto che ha vinto tutto dalla Premier fino a Champions League ha vinto tutto però è ancora un ragazzo giovane per un ragazzo di grande potenziale Shomodorov lo stesso Borja già sarà la seconda stagione nel club però sappiamo quello che può aiutare la squadra e sono veramente contento non hanno quello livello di esperienza di quelli che sono già giocatori in tramo finale della loro carriera non si può paragonare questo ragazzo il livello di esperienza con i grandi Cristiano Ibra, Giroud con Etting con questa gente che sa tutto di calcio però sono ragazzi che non solamente io i propri compagni sono assolutamente fiduciosi con la qualità di questi tre ragazzi sono davanti sono davanti sono davanti che ne sono davanti che ne sono evitato che ne sono i due a che non è che ne sono assicurati a me città che c'è che ci sono che ci sono che ci sono per quale che ha avuto che ha avuto che ha avuto Potenti che più alti, potenti molto elevano a noi, potenti a tutti i centrafodi. Perciò che i centrafodi con più, i centrafodi migliori e magari la ricerca di più, potenti più alti centrafodi, ma potenti sono davvero molto elevato. Sì, posso dire perché i giocatori lo sanno, quello che non mi piace è quando altre persone sanno prima dei giocatori, questo con me non è possibile, però sì, gioca i bagnes, i bagnes mancini, nessun problema di dirlo. La situazione di Chris ha lavorato tutti i minuti di prestagione dal primo giorno fino all'altro ieri, ha lavorato ogni minuto benissimo, pieno di fiducia e in quella partita ultima a casa con Laia ha scivolato nella ultima azione prima del cambio che ho fatto, ha scivolato e ha sentito una piccola cosa. Noi stiamo lavorando tutti insieme tanto a livello preventivo, la squadra ha avuto negli ultimi anni un record assolutamente negativo di infortuni e noi stiamo lavorando tanto su di questo, ci sono delle cose che possiamo migliorare, ci sono altre cose che sono calcio, che sono la natura di ogni giocatore, però tutti insieme, allenatori, dipartamento medico, sport science, preparatore atletico, anche i giocatori sono super disponibili per questo lavoro invisibile fra virgolette che è un lavoro che tutti facciamo insieme praticamente di nascosto, è un lavoro importante che noi pensiamo che può prendere risultati per noi e con questo piccolo problema di Chris magari arriva una sensazione di déjà vu con Chris perché l'anno scorso è stato troppo, però solo posso dire che lui sta lavorando fantastico e che mi fido di lui come progetto di stagione, non gioca domani, magari non potrà ancora giocare domenica, però non è un problema ma non è un problema grosso per tempo, le tempo. Grazie a tutti. 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 Vedo storia. Grazie a tutti. 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 i tre. e a tutti. giocatori di giocatori. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.